Dietro le ali dell'autostart i nove protagonisti del Costa Azzurra 99, quarto trofeo alla Meridiana Lingotto. Prima fila dall'interno verso l'esterno, Maybe Tomorrow, Luis Lauco, Unifort, Diamond Circle, Nonno Senso Woman, Somali Silvio, Tension Flamingo e Call Me in seconda fila con le nove, Take Chances. Macchina a 200 metri dal punto di stacco, ha rinunciato all'ala numero 8, Call Me. Macchina che aumenta velocità, rinuncia all'ala numero 7, Attention Flamingo, al pari del numero 1, Maybe Tomorrow, per il comando Diamond Circle. Luis Lauco in vantaggio, Luis Lauco al comando, poi all'esterno Unifort e Diamond Circle, più a largo Nonno Senso Woman e Somali Silvio, quindi in corda Maybe Tomorrow. In piegata Luis Lauco al comando, Luis Lauco in vantaggio, secondo all'esterno Nonno Senso Woman, poi Unifort, avanti a Diamond Circle. In difficoltà da Nonno Senso Woman, Luis Lauco al comando, in seconda posizione Unifort. Uscita dalla piegata con Luis Lauco al comando, 28 netti per i primi 400 metri, passaggio davanti alle tribune con Luis Lauco al comando. In seconda posizione si mantiene Unifort, poi all'esterno Somali Silvio, quindi ancora per l'interno Maybe Tomorrow, che avvicino Diamond Circle. Poi attention Flamingo, quindi Call Me, avanti a Take Chances, poi Nonno Senso Woman. Sulla piegata Somali Silvio va al lato di Luis Lauco, Luis Lauco al comando, in fuori Somali Silvio, in corda Unifort, poi in fuori Diamond Circle. Cavalli a metà corsa, ha intanto sbagliato 9 Take Chances, 31,4, la seconda frazione. Squalificato anche Nonno Senso Woman, Luis Lauco in vantaggio, al suo esterno Somali Silvio, in corda sempre Unifort, con l'altro Diamond Circle. Luis Lauco in vantaggio, al suo esterno rimane Somali Silvio, in corda sempre Unifort, poi in fuori Diamond Circle. Quindi ancora per linea interna, attention Flamingo. L'errore di attention Flamingo in coda, in vantaggio Luis Lauco, in fuori Somali Silvio, poi Unifort. Qualificato attention Flamingo, addirittura d'arrivo per Luis Lauco al comando. Luis Lauco su Somali Silvio, Luis Lauco, Somali Silvio, Diamond Circle e Unifort. Luis Lauco al comando, Luis Lauco allunga per la seconda posizione ancora Somali Silvio, poi Unifort. Luis Lauco conclude, poi lotta per il secondo posto. Luis Lauco al comando, Luis Lauco al comando.